Una legge che sia un grande contenitore aperto alle idee degli esperti e gli esperti in questo caso sono i motociclisti che vivono su strada le bellezze del territorio. Non è stata scelta a caso Otranto luogo di approdo e accoglienza ma anche città dalla quale parte una litoranea, quella che porta all'Euca, che è una delle strade più belle d'Italia per presentare la proposta di legge per la promozione e la valorizzazione del mototurismo in Puglia, di cui è proponente il consigliere regionale Paolo Pagliaro. Un progetto condiviso con il mondo del motociclismo già sottoscritto dal presidente Emiliano e da una trentina di consiglieri regionali per andare a colmare una lacuna normativa in Puglia. L'attenzione verso i turisti in moto platea importantissima del turismo slow e sostenibile al pari di camminatori e cicloturisti. La regione ha già investito sui cammini 3.200.000 euro e predisposto un piano regionale della mobilità ciclistica che per la sicurezza dei percorsi prevede 480 milioni di euro. Ma finora era stato trascurato il segmento del mototurismo ed è qui che interviene la legge ad hoc. Si calcola che solo in Italia ci sono un milione e mezzo di motociclisti che vanno in giro regolarmente per un fatturato di 2 miliardi di euro e in Europa ancora di più e potrebbero essere attratti da un sistema turistico specifico per loro nella nostra regione che è bellissima, 800 chilometri di coste, dalle montagne del Gargano alla Valle d'Itria, al Salento, al nostro mare, le nostre bellezze, la nostra cultura, la gastronomia, tutto questo con una filosofia bellissima che è la filosofia del motociclista, la libertà, la natura, scoprire posti insoliti dove magari non arriva il turismo tradizionale. Servizi chiaramente necessari, stalli, attenzioni, guide specifiche che possano indirizzare in alcuni percorsi che andremo a realizzare, un contenitore ampio. Una legge che vuole offrire servizi e sicurezza ma anche formazione per creare la figura di operatori esperti che accompagnino i turisti su due ruote. La prima cosa di cui abbiamo bisogno sono i servizi, sicuramente perché parliamo di mototurismo ma quello che è molto importante è la sicurezza sulle strade. La sicurezza sulle strade ci fa venire la voglia di visitare un posto e poi ovviamente in conseguenza anche la ricettività, i servizi e l'attenzione per quanto ci riguarda. Questo è molto importante. Questa legge veramente è una cosa che ci dà una grande soddisfazione, questo interesse dell'amministrazione regionale, quindi speriamo di poter dare il massimo anche noi come federazione motociclistica italiana a supporto di questa legge per la formazione che servirà in campo specifico degli operatori di settore. Noi ci siamo non con una mano ma con tutti e due. Il padrone di casa, il sindaco di Otranto Francesco Bruni ha annunciato l'approvazione di una delibera di adesione per dare un segnale forte di appoggio da parte dell'amministrazione Idruntina. Il merito di questa proposta di legge è proprio quello di valorizzare sicuramente e programmare il mototurismo così come c'è scritto all'interno dello stesso testo ma anche di far capire che c'è un modo di usare la motocicletta e le nostre strade, i nostri percorsi nel pieno rispetto delle regole e questo per noi è importante sia come città in sesia anche come luogo di approdo di tanti turisti perché poi ognuno ha le sue esigenze e noi dobbiamo avere sempre la capacità di far stare insieme un po' tutti. Credevamo e crediamo necessario colmare questa lacuna per un segmento altrettanto importante di un turismo ecosostenibile, lento e finalizzato ad attrarre quante più persone possibili che amano la moto ma amano anche andare in moto in maniera intelligente, sana, prudente e poi noi li conosciamo bene. I motociclisti, quelli veri, sono persone eccezionali, molto attenti al territorio, lo amano in maniera assoluta e sono anche molto attenti ad altre funzioni sociali che sono tipiche di chi ama il proprio territorio e chi ama scoprirlo nelle sue mille sfaccettature. Grazie.